Ciao, sono Andrea Martella di G e oggi vedremo insieme in cosa consistono due tra le strategie su opzioni più semplici e popolari, Naked Put e Covered Put. La strategia Naked Put è davvero molto semplice. Prevedi di aprire una posizione short su un'opzione put vendendola senza possedere la posizione short su sottostante. Questa strategia si basa sul fatto che scegliendo uno strike molto lontano e difficilmente raggiungibile prima della scadenza si può ricevere il premio dell'opzione ed essere fiduciosi che questa possa scadere out of the money ossia con un valore intrinseco pari a zero. In questo caso chi vende l'opzione avrà incassato il premio all'apertura della posizione ottenendo un profitto pari a questo importo. Di contro però la perita potenziale può essere elevata. Infatti se alla scadenza l'opzione sarà in the money avverrà l'esercizio dell'opzione put dalla controparte. Questo significa che il titolare della posizione short dovrà acquistare sottostante. Possiamo considerare questa strategia quando abbiamo una visione neutrale rialzista sul mercato oppure quando vogliamo acquistare un asset ad un prezzo scontato. Vediamo come con un esempio. Immaginiamo di considerare l'acquisto di un indice ad un prezzo inferiore a quello di mercato. Poniamo che la quotazione di mercato sia pari a 10.000 e ipotizziamo di voler comprare quell'indice a 9.000. Invece di inserire un ordine di acquisto al limite sul sottostante decidiamo di vendere un'opzione put con strike 9.000. Analizziamo ora nel dettaglio i possibili scenari. Scenario 1. Il mercato sale costantemente fino a 11.500. L'opzione scade a zero e non viene esercitata. Essendo titolari di una posizione short sulla put, però noi abbiamo guadagnato l'intero premio senza subire l'obbligo di acquistare dalla controparte. L'ordine a prezzo limite sul sottostante invece non sarebbe nemmeno stato eseguito, non consentendo alcun profitto. Scenario 2. Il mercato non si muove o si muove poco intorno al prezzo di partenza di 10.000. Anche in questo caso l'opzione scadrà a zero e noi guadagneremo l'intero premio. Anche in questo caso l'ordine diretto sul sottostante non sarebbe partito e non avremmo quindi fatto il profitto. Scenario 3. Il mercato scende sotto i 9.000 punti, diciamo 8.500. Chi ha comprato l'opzione deciderà di esercitarla e quindi noi saremo costretti ad acquistare il sottostante a un prezzo più alto rispetto a quello di mercato, ovvero 9.000, che corrisponde allo strike price. Otteniamo in quel caso un risultato identico all'acquisto al limite del sottostante, migliorato però dal fatto di aver ricevuto un premio iniziale dalla vendita delle opzioni. In tutti e tre gli scenari la performance di questa strategia è stata migliore rispetto all'acquisto del sottostante con un ordine al limite. Tutto chiaro fin qui? Allora vediamo insieme in cosa consiste la strategia di Covered Put. Questa è tra le strategie più comuni e si rivolge sia all'investitore a lungo termine che cercano di migliorare una posizione short sul sottostante, sia all'investitore di breve termine che prevedono un possibile ribasso. La strategia di Cover Put prevede di aprire una posizione short sul sottostante e vendere contestualmente una put sul medesimo sottostante, con l'obiettivo di migliorare il prezzo di carico incassando il relativo premio. A differenza di una Naked Put, ovvero della semplice vendita di una put, il rischio dello short sull'opzione è coperto dalla posizione ribassista sul sottostante e qualsiasi perdita sull'opzione viene compensata dal guadagno sul sottostante. L'aspetto più interessante di questa strategia è che se la put che vendiamo scade out of the money, e quindi a zero, l'investitore può vendere altre put con scadenze diverse, raccogliere più premi e continuare a migliorare la performance del suo portafoglio. Quali opzioni è meglio scegliere per questa strategia? Per questa strategia dobbiamo scegliere di vendere opzioni a the money o out of the money, che hanno un valore principalmente estrinseco. Più alto sarà il valore estrinseco, infatti maggiore sarà il prezzo dell'opzione che andremo a vendere e di conseguenza il premio incassato e il profitto massimo. Per questo motivo questa strategia è ideale in contesti di mercato in cui la volatilità implicita è alta. Questo infatti si traduce generalmente in un prezzo dell'opzione più alto. Ti è piaciuto questo video? Ricordati di iscriverti al nostro canale YouTube e attivare le notifiche. In questo modo sarai sicuro di non perderti i nostri prossimi contenuti. Se vuoi provare queste due strategie in prima persona puoi aprire un conto demo gratuito con IG e iniziare a fare trading senza rischi, con denaro virtuale ma su prezzi reali. Troverai tutti i link utili in descrizione. Al prossimo video!